bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono mattia bimisei quest'oggi come vedete alle mie spalle siamo qui con la mia ktm 250 4 tempi e di qua abbiamo sempre di nuovo una mia yamaka 250 4 tempi e tra poco arriverà il mio amico dario e ci andremo a fare un giro per i campi con queste due moto e vi faremo vedere un po come funzionano bene adesso è arrivato il mio amico dario bello a tutti e siamo pronti a partire su queste bestie te dario qual userai la yamaka allora io uso questa qua siamo pronti a partire e vi lascio il video ora bello a tutti mamma mia raga mamma mia quanto va questo ktm quanto va ahha Grazie a tutti. Grazie a tutti. Saluta! Facci vedere! Vai, pianto! Vado? Vado! Olè! Ora facciamo una IG Stories, una Instagram Stories, così... Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, mattielbi26. Cavoli, non va il Face ID. Bene, ora Dario ci fa vedere come si accende. Vai, Dario! Mi denunci? Sì. O rinunci? Ti denunci! Vai, forza! Porca tre! Oh, non si muove! Vai! Oh, forza di palestra, guarda qua, è Omar, cavolo! Oh, ci vanno 6 giga per girare la schiena, oh! Oh, guardate, oh! Guardate! Dai, vai, vai! Porca tre, non va giù! Dai, l'accendo io! Ora ti faccio... Sono in serio, non va giù! Ti saltavo sopra? Dai, maestro! Ti sto abituato! Vai, Dario! Fado io! Ah, un po' d'aria, stavo giù da un po' Ah, un po' d'aria, stavo giù da un po' Bene, siamo appena tornati dal nostro giretto in moto Non siamo caduti, tutto a posto, Dario, com'è? È stato bellissimo Noi ci vediamo in un prossimo video E ciao a tutti! Ciao a tutti!